Il corpo senza vita di un 50enne italiano è stato ritrovato in mare a largo del porto di Salerno. A rinvenirlo durante la notte un pescatore è uscito per una battuta di pesca e avvedutosi di un corpo che galleggiava a pelo d'acqua. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Salerno e i militari della Capitaneria di Porto che hanno raggiunto il cadavere con un'imbarcazione e l'hanno recuperato. Da un primo esame esterno si esclude la morte violenta in quanto non ne sarebbero stati ritrovati segni ma sul caso è stata aperta un'indagine ad effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari la polizia scientifica assieme alla squadra mobile di Salerno. Non si esclude nulla al momento tra cadute accidentali e malori e solo ulteriori approfondimenti medico-legali potranno sciogliere i dubbi. L'ipotesi più accreditata è che potrebbe essere caduto a seguito di un malore da un peschereccio di proprietà di un parente dove però si trovava da solo per una battuta di pesca. Nelle prossime ore se ne potrà sapere di più.